Se volete iniziare a streamare, registrare video per YouTube o passare i vostri gameplay ai vostri amici andiamo a vedere come fare senza influire troppo sulle prestazioni del PC mantenendo però una qualità alta. Il programma che useremo è OBS Studio. Cercherò di parlare di tutte le varie impostazioni che ci sono anche se alcune cose come effetti tipo 3D, sfocato, aggiungere il chat sul monitor avere un audio separato in base alla scena sono cose che richiedono un po' di tempo e quindi ci sarà un video a parte. Partiamo dalle basi. Cos'è una scena? È un contenitore dove dentro ci sono le cose che effettivamente vedete e sentite audio, immagini, video, videogioco eccetera. Per aggiungere una fonte ad una scena basta cliccare sul più qua in basso a sinistra oppure col destro fare aggiungi in questo caso prendiamo un cattura gioco di solito lo trova in automatico se state giocando ad un gioco a tutto schermo io adesso ho Among Us aperto sotto in finestra per fare una prova quindi glielo diciamo ed ecco qua. Poi aggiungiamo anche un dispositivo di cattura video non la mia videocamera perché la stiamo già usando quindi andiamo a cercare quella del nostro cellulare e salutiamo Lemmy. L'audio è messo di default in tutte le scene potete alzarlo e abbassarlo con le levette qua di fianco o mutarlo con la rotella ovviamente avete le varie opzioni che come ho già detto guarderemo nello specifico in futuro se ci sono dei problemi e non ve li trova qua in impostazioni audio avete audio desktop e potete scegliere quale scheda audio usate e audio mic ausiliario stessa cosa. Passiamo alle impostazioni per registrare sotto file impostazioni c'è la tab dirette dove collegate OBS con il sito dove volete streamare ci sono Twitch, YouTube, Facebook, tutti quelli un po' più famosi come Cam4, Chaturbate, StripChat diciamo che volete andare su Twitch qua vi consiglio di fare connetti account vi chiederà username e password ovviamente però non dovete inserire nessuna chiave cosa che dovete fare con YouTube qua vi dice codice delle dirette lo trovate nella dashboard nel YouTube studio quando gli dite che volete andare live andando per importanza passiamo alla tab video la prima voce è la risoluzione del vostro monitor o del gioco a cui state giocando che volete registrare la seconda è quella a cui volete invece streamare vi consiglio ovviamente di fare o 1080 o 720 in base al vostro computer e a cosa state facendo gli FPS vi consiglio di tenere o 30 o 60 ignorate tutti gli altri valori se il vostro PC regge 60 ovviamente meglio richiede anche molta più banda però altrimenti 30 va benissimo per quanto riguarda il filtro ci sono mille video su YouTube vi consiglio di guardarne uno se vi interessa nel 99% dei casi non noterete differenze e vi consiglio di partire col bicubica che è quello un pochino più bilanciato passiamo alla tab uscita qua credo che di base vi dia semplice hanno le cose semplici e non piacciono mettiamo avanzate dirette è per la parte delle live e registrazioni ovviamente per le parti delle registrazioni traccia audio lasciate uno a meno che non abbiate fatto cose strane codifica se avete una scheda Nvidia mettete l'endbank fra parentesi new o se vi piace spistolare potete mettere l'AVC se avete una scheda AMD avrete l'AMF qua se avete una scheda che non supporta nessuno di due potete scegliere l'X264 questo vuol dire che farete lavorare il processore e le prestazioni ne risentono tantissimo quindi ovviamente è meglio evitare in ogni caso non usate riscala l'uscita questo serve solo se volete che la vostra registrazione e il vostro stream abbiano due risoluzioni diverse se volete cambiare la risoluzione del vostro stream video dove vi ho fatto vedere prima la seconda riga l'unica cosa da sapere sull'X264 è che il preset e l'utilizzo della CPU è quello che determina le prestazioni e la qualità più andate su come c'è scritto meno CPU verrà usata ma la qualità sarà più bassa più andate giù invece il contrario è una scheda Nvidia quindi posso farvi vedere l'AMVANC le impostazioni comunque dovrebbero essere praticamente uguali il tipo di controllo della frequenza lasciate CBR che vuol dire Constant Bit Rate per lo stream è l'unica opzione valida velocità in bit il limite per Twitch ufficiale è 6000 quello non ufficiale è intorno ai 7-8000 se lo alzate oltre vi interrompe la live questo è da valutare in base a cosa dovete streamare alla risoluzione che dovete streamare e alla vostra connessione qua sotto in descrizione comunque vi lascio il link dei valori consigliati da YouTube e da Twitch intervallo dei fotogrammi chiave lasciate 0 che è automatico oppure mettete 2 se vi da dei problemi che è lo standard per lo stream il preset ovviamente dipende che cosa volete streamare e che computer avete quelle con bassa latenza non consideratele perché non servono a molto guardate le prime 4 ovviamente massima qualità qualità più alta prestazioni più basse massime prestazioni il contrario profilo lasciate high mettendo main abbassate l'utilizzo di risorse però la qualità ne risente tantissimo se avete dei problemi col computer vi consiglio di abbassare altre cose il look ahead e l'ottimizzazione visiva di Psyco cambiano in base a cosa state streamando a detta di Nvidia il look ahead va attivato in caso di giochi con pochi movimenti invece l'ottimizzazione visiva di Psyco sempre attiva se avete una scheda video qua lasciate 0 se ne avete di più dovete cambiare in base a quale volete usare per registrare i bframe massimi molto in breve se avete il look ahead disattivato metteteli a 2 se l'avete attivato mettetelo a 4 passiamo alla registrazione tipo lasciate standard percorso di registrazione ovviamente è dove volete che vi vengano salvati i file formato di registrazione i 3 da tenere in considerazione sono FLV MP4 ed MKV MP4 è comodo perché dopo che avete registrato in MP4 potete usare quel file per qualunque cosa potete direttamente importarlo in DaVinci Resolve o Adobe Premiere potete inviare i vostri amici su Whatsapp su Discord o per email il lato negativo è che se succede qualcosa mentre state registrando se crash OBS crash IPC va via la luce o per qualunque motivo non riuscite più a scrivere sul vostro disco perché magari è pieno quel file sarà inutilizzabile avrete perso tutto cosa che non succede con FLV ed MKV la differenza è che l'MKV vi permette di avere tracce audio separate fino a 6 nel caso di OBS ed è comodo se per esempio registrate mentre state giocando con i vostri amici e in mezzo alla partita vi accorgete che hanno il volume troppo alto o troppo basso oppure in mezzo ad un gameplay magari particolarmente rumoroso non si sente la vostra voce e potete regolare i volumi lato negativo è che dovete convertire questi file in mp4 o mov o comunque un altro formato più utilizzabile prima di poterli editare o di poterli mandare farlo però è molto semplice qua su OBS fate file converti le registrazioni cliccate i tre puntini scegliete un file mkv e fate converti molto velocemente OBS ve l'ha già convertito in mp4 se avete le tracce audio separate qua potete scegliere quali vengono registrate per il tipo di controllo della frequenza invece cambiate perché CBR va bene per lo stream per registrare invece avete lossless che non ve lo consiglio perché avrete dei file enormi e a meno che non stiate lavorando in 4k in maniera professionale non credo che sia questo il caso non vi conviene il CQP ha un valore che è praticamente la qualità a cui state registrando il vostro video va da 0 a 30 più alto è questo numero più la qualità sarà bassa e il file sarà piccolo sotto al 14 è praticamente come il lossless quindi vi consiglio di rimanere tra il 15 e il 20 io ho sempre usato 15 e non ho cali di prestazioni se volete guardare il pc che uso comunque tutti i dettagli sono qua sotto in descrizione rimane il VBR se lo volete provare vi consiglio come velocità in bit di partire intorno ai 50.000 per fare una prova e come massima magari 80.000 potete comunque aumentare anche fino a 200 fate due prove e guardate quanto viene grosso il file la qualità e le prestazioni l'intervallo dei fotogrammi chiave deve essere 2 per lo stream ma per registrare potete anche alzarlo se però non sapete cos'è andate tranquilli che non vi cambia niente una volta che avete fatto tutto questo potete finire di sistemare la vostra scena se per esempio volete mettere un video potete mettere fonte multimediale e poi andare a scegliere il video che volete mettere qua vi consiglio di mettere allora ripeti se volete che il video vada in loop e chiudi il file quando la fonte diventa inattiva sceglietelo perché vuol dire che se siete in una fonte dove non si vede questo video OBS non occupa risorse per tenerlo aperto e poi gli datelo ok se volete che queste immagini video audio eccetera vengano controllate dalla vostra chat di twitch oppure da voi tramite il vostro stream deck completamente gratuito installato sul vostro cellulare o sul vostro tablet ho un video anche per quello vi lascio il link qua sopra qua sotto oppure girate per il canale che li trovate quando siete pronti cliccate start streaming che non so perché è l'inglese per iniziare lo stream oppure avvia la registrazione per iniziare la registrazione se volete mettere in pausa in mezzo alla registrazione qua c'è anche il pulsante dopo che l'avete premuto se lo ripremete riparte e quando avete fatto cliccate su termino se avete imparato qualcosa iscrivetevi cliccate la campanella condividete il video fate un giro per il canale se volete vedere gli altri video sono i link qua di fianco e alla prossima